Pronto per il decollo Pronto per il decollo Pronto per il decollo Benvenuti in un nuovo video di Quadriquattro News Abbiamo appena visto la prova del DJI Mini 2 Con una nuova app Auriga DJI Nuova app per quanto riguarda Il mondo dei droni DJI Che nella versione per i droni Parrot Bebop e Anafi E' utilizzata da anni e molto conosciuta Attualmente questa versione per DJI Supporta i droni Mini 1, Mini SE E' localizzata anche in italiano Compresi i messaggi vocali Ed ha un layout molto intuitivo E ereditato appunto dalle versioni Parrot Particolarità principale E' quella che si può usare Oltre che direttamente con lo smartphone Anche con i visori VR Come vedete In questo momento lo schermo è diviso in due Perché è fatto in modo per inserire lo smartphone In un visore VR E' possibile anche fare le regolazioni fini E' anche possibile utilizzarla con la Magi Mask Quando si utilizza con la Magi Mask Lo schermo è full screen Perché la particolarità della Magi Mask E' quella di avere una lente Che non richiede lo schermo diviso in due Si può anche utilizzare ovviamente Direttamente da smartphone con la prima opzione Sia in modalità Magi Mask che VR E' possibile cambiare i setting Agendo sugli stick Premendo sul tasto home brevemente Si attiva il menu con le barre laterali E con gli stick si possono cambiare i setting Con lo stick di sinistra si può selezionare la voce Con lo stick di destra si cambia il relativo parametro In questo momento ho cambiato la modalità di visualizzazione Adesso sto attivando o disattivando le griglie di riferimento Ma posso anche cambiare la modalità di registrazione La modalità di scatto foto La risoluzione Gli fps Insomma tutti i parametri che normalmente si fanno con il dito Tappando sullo smartphone Si possono fare direttamente con gli stick Che quando abbiamo lo smartphone all'interno del visore VR O della Magi Mask In questo modo non dobbiamo togliere lo smartphone dalla maschera E possiamo utilizzarlo tranquillamente anche in volo Quindi con il tasto brevemente Col tasto home premuto brevemente Si accede, si attiva o si disattiva il menu E si può procedere C'è anche la modalità full screen Che come in questo caso Non ha nessun dato sovraimpresso In più possiamo attivare la modalità Che inclinando la testa Inclina anche il gimbal Quindi noi abbiamo la maschera indossata Oppure il visore Incliniamo la testa verso il basso E il gimbal camera si inclina verso il basso Questa è la Magi Mask Con lo smartphone inserito all'interno Ovviamente collegato al radiocomando tramite un cavetto Come vedete la Magi Mask permette di guardare lo schermo pieno Senza bisogno come ho detto Che lo schermo sia diviso in due Come invece accade per il visore VR Quindi abbiamo la massima risoluzione possibile Perché è quella intera dello smartphone La particolarità è che quando usiamo la Magi Mask Ma anche con eventuali visore VR Che ha la finestrella o un'apertura Possiamo premendo un tasto del radiocomando Abilitare la camera dello smartphone Premendo il tasto FN Possiamo alternare la visuale della camera del drone Con la visuale della camera dello smartphone Così possiamo Quando attiviamo quella della smartphone Possiamo vedere cosa accade davanti a noi E girare la testa E vedere se magari la nostra osservatrice Sta parlando con qualcuno Infatti per regolamento è necessario avere un osservatore Quando si pilota in FPV L'osservatore tiene a vista il drone al posto del pilota Questa è la schermata principale Si può calibrare la bussola, l'imu, la gimbal È possibile cambiare il canale radio È possibile cambiare modalità di volo A proposito di modalità di volo Attenzione che generalmente di default viene settata la modalità 1 Ovviamente sto parlando della modalità degli stick del radiocomando Come ho già detto questa app si può utilizzare anche direttamente il radiocomando Senza uso di un visore E funziona esattamente come ad esempio la DJI Fly Abbiamo varie possibilità di setting La possibilità di cambiare il colore della telemetria Abbiamo la possibilità del full screen Abbiamo due modalità di telemetria Una più completa e invasiva L'altra minimale e meno invasiva Possiamo abilitare le griglie Naturalmente abbiamo anche la modalità follow per il gimbal In modo che quando si fanno le virate l'orizzonte si inclina Nella mia prova non l'ho attivata Ho lasciato la modalità stabilizzata Con l'orizzonte stabilizzato Questa ad esempio è la modalità full screen Per togliere il menu basta semplicemente premere brevemente Sul tasto di ritorno a casa automatico del radiocomando Per fare ricomparire il menu basta premere nuovamente Sulla parte destra del menu vediamo che possiamo settare altri parametri Come ad esempio anche gli fps del video In questo caso sono a 4k ho provato a settare 60 fps Ovviamente il mini 2 non va oltre i 30 fps a 4k E in questo caso c'è un piccolo bug perché l'app si è bloccata Se noi sul 4k andiamo a settare una configurazione a più di 30 fps L'app si blocca E' un piccolo bug che ho già comunicato agli sviluppatori di Auriga E che verrà sistemato a breve con la prossima release Quindi fate particolare attenzione mentre siete in volo a non cambiare il parametro a fps Superando i limiti fisici del drone In questo caso 4k massimo 30 fps Altrimenti poi abbiamo il rischio come avete visto che l'app si blocca E poi si disconnette per qualche decina di secondi Perde connessione e se il drone è in volo potrebbe non essere simpatico Una possibilità molto interessante che ha questa app e non ha la djfly E' quella di poter variare la saturazione, il contrasto e la nitidezza dell'immagine Con la djfly questi tre valori non si possono cambiare Questo è il contrasto, adesso cambio la saturazione Proviamo a cambiare la saturazione Massima saturazione E saturazione al minimo E un'altra cosa interessante è la possibilità di cambiare la nitidezza Che sul mini 2 può dare un po' di soddisfazione Aumentando la nitidezza dell'immagine possiamo ottenere una migliore qualità immagine In alcuni contesti a patto di non esagerare per non creare rumore e artefatti Da troppa nitidezza sharpening Cliccando su radio accediamo appunto alla sezione radio Dual band 2458 siamo col mini 2 vi ricordo E possiamo cambiare come dicevo la modalità del controller Nel mio caso mod 2 Io ho provato la versione 1.8 Che ha anche aggiunto la possibilità di fare lo zoom Tenendo premuto il tasto fn e muovendo la ghiera del radiocomando Durante la mia prova si è comportata abbastanza bene A parte questo piccolo bug di blocco quando settavo i 50-60 fps in 4k Però per il resto è andato bene E anche il ritorno video è stato ottimo Insomma un buon punto di partenza per questa app Che non può fare altro che migliorare con le prossime release Questa app la trovo particolarmente utile Quando si indossano i visori Non per fare le gare in fpv Ma per fare riprese stabilizzate di precisione Indossando gli occhiali Il pilota può rendersi conto meglio dei passaggi Può fare dei passaggi a sfioramento degli ostacoli E ottenere riprese veramente d'effetto Senza rischiare e senza essere disturbato dalla luce del sole e da altro Guardare lo smartphone con la MagiMask All'interno della MagiMask è un'esperienza unica Si riesce veramente ad essere molto più precisi nel volo Nelle traditorie di volo La possibilità di cambiare i parametri Senza dover togliere lo smartphone dal visore È una possibilità unica che ha soltanto questa app E che secondo me vale il prezzo Vale il suo prezzo Costa 7,99€ Qua possiamo vedere che abbiamo anche Auriga Nafi E Auriga Bebop Che sono due app storiche di questa software house Auriga DJI la potete trovare su Google Play E io vi saluto Vi ringrazio per l'attenzione Vi invito ad iscrivervi al canale se non avete ancora fatto E lasciare un like Per quanto riguarda invece la MagiMask Potete trovare un link di acquisto in descrizione di questo video In alternativa è possibile utilizzare i visori VR Comperò la definizione ridotta A causa del fatto che con il visore VR L'app divide in due lo schermo Necessariamente perché è il modo con cui funzionano i normali visori VR Ciao a tutti e al prossimo video su Quadricottero News Ciao a tutti